Musica Oggi alla Berto di Meda, allo showroom Berto di Meda, abbiamo ospitato 70 ragazzi della Naba. Musica Abbiamo deciso di venire in visita nel vostro showroom perché oltre alla didattica e oltre a questo mio ruolo all'interno dell'accademia come course leader, io mi occupo di giornalismo, quindi sono anche giornalista. E quando ho scoperto il progetto Made in Meda e quando ho sentito le parole di Filippo durante la presentazione del libro, mi sono detta, ho così tanti studenti che sarebbero molto contenti di venire a riascoltare le sue parole e sapendo quanto quest'azienda crede nei giovani, nelle giovani promesse del design italiano internazionale, ho deciso di provare a organizzare questa visita. E' stata una giornata straordinaria perché ci sono stati veramente tantissimi questi ragazzi che hanno letteralmente invaso il nostro showroom con l'obiettivo di capire come funziona un'azienda del distretto medese, del distretto di Meda. E' stata un'azienda incredibile, perché non è davvero usuale andare in un'azienda e il CEO parlare con te personalmente. Per me è stata un'azienda incredibile, capire le rute della firma, come si è iniziato e come si è sviluppato ogni anno, e come si è diventata un'azienda internazionale. E' stata un'azienda che ci ha dato, come si esplici le cose, come si mostrivi il showroom e il spazio, è stato un'azienda incredibile. Oggi Berto, all'attenzione di questi ragazzi, è stata il caso di un'azienda in grado di parlare in modo differente con i clienti attraverso una relazione diversa, proprio grazie al fatto che abbiamo un canale di comunicazione diretto con i nostri clienti. Grazie. 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 Grazie.